Queste le immagini risalenti allo scorso marzo, periodo di inizio di pandemia e sanificazione generale di strade ed edifici pubblici a Modica, così come in tutti i comuni d'Italia. Pandemia ancora non terminata e che oggi come allora richiede la massima attenzione da parte delle amministrazioni comunali affinché vigilino sulla sicurezza e la salute pubblica. Per questo il consigliere comunale di Modica, Momo Carpentieri, chiede al sindaco Abate di ripetere quanto già fatto lo scorso 18 marzo sul territorio comunale, ovvero una sanificazione totale di strade, piazze ed edifici pubblici. Operazioni programmate con cadenza settimanale, con interventi sia nel pubblico che nel privato, mediante l'utilizzo di soluzioni formata da acque candeggina. Il Comune, secondo Carpentieri, dovrebbe quindi continuare con l'opera di disinfezione e igienizzazione dei locali di pertinenza comunale, proseguendo dopo averla effettuata su tutti gli uffici pubblici, teatri e musei, anche su locali scolastici, centri anziani e asili nido. Insomma, ripetere quanto già fatto in passato al fine di ridurre il rischio di contagio da coronavirus nel territorio comunale. Bene, continua Carpentieri, quanto si sta facendo per contingentare gli ingressi al cimitero comunale nei prossimi giorni, dedicati alla commemorazione dei defunti. L'installazione di dispensari di igienizzanti e l'obbligo di indossare la mascherina sono interventi necessari, così come dovrebbe esserlo anche una sanificazione totale di tutta l'area cimiteriale al fine di ridurre al minimo il rischio di contagi. Stessa cosa si dovrebbe fare con cadenza costante su autobus cittadini. Grazie mille. 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 Grazie a tutti